Allora ragazzi, video easy della settimana. Intanto un saluto da Mappo, amici miei. Questo video dovrebbe uscire di venerdì. È un video semplice dove non mi metto a giocare, ma vi parlo di un argomento che mi piace fare. Tra l'altro questo video ho tirato fuori un argomento che avevo in lista da un po' di tempo da fare. Parliamo di youtuber a 40 anni. Secondo voi c'è un limite di età per fare youtube? Anzi, secondo voi c'è un limite di età per fare youtube nel gaming? Allora, no, in realtà tutte e due le domande sono buone. La prima, cioè per fare youtube, no, non c'è un limite di età, perché uno anche a 80 anni può portare la sua passione. Nel gaming, secondo me, c'è un limite di età, ma per quanto riguarda lo youtuber a 40 anni, c'è modo e modo di farlo. Uno inizia, come posso aver fatto io nel 2012, con risultati e impegno decisamente diversi da adesso, e aspettative diverse. Inizia in un modo... Non è stato infantile, anche perché non mi sono nemmeno mostrato, non parlavo, era un gameplay puri. Però, per quanto anche si vede in giro, chi inizia da metà giovane, quindi nei 20 anni, nella fascia 20 anni, 25, i contenuti sono abbastanza banali. Poi si cresce, si migliora, si acquisiscono informazioni, anche l'esperienza col videogioco migliora, si sa cosa dire, si riescono ad abbinare anche fatti reali con i fatti virtuali, e si arriva a 40 anni. Ci sono giochi e giochi da portare a 40 anni. I generi che, secondo me, si addicono di più a quest'età sono quelli sportivi. Se parliamo di simracing, secondo me è perfetto, anzi quasi stona il simracing in età giovane. Infatti, nelle gare che organizzo, per fortuna, l'età è sempre tra i 25 e i 55, e non mi stupisce che vada così oltre. Anzi, secondo me può andare anche fino a 60, 65. Spero, così almeno c'è anche io un po' di tempo da giocarmela in futuro. Bisogna puntare appunto su un qualcosa di più concreto. I giochi un po' da bimbo minchia non vanno più bene, a meno che li si trattino come recensioni, come tutorial costruttivi, una cosa critica, insomma, che creano discussione. Il gioco in sé non può bastare più. Il gioco deve essere solo di supporto per un contenuto di qualità che riguarda principalmente noi stessi. È importantissimo su YouTube, questo anche in giovane età, mostrarsi. Questo è importantissimo, ragazzi, mostrarsi. Per chi inizia, secondo me, fare solo gaming, quindi gameplay, è incredibilmente anonimo e servirà a pochissimo, salvo che voi non siate dei pro player, ma veramente bravi, oppure che siate dei fenomeni col montaggio che sappiate emozionare. Ma anche lì, secondo me, non è sufficiente. Bisogna mettersi in gioco. All'inizio si può fare tranquillamente con la voce, come ho fatto io un po' di tempo fa, parlo del 2017, perché comunque non è importantissimo sempre farsi vedere, ma quando lo farete saranno solo vantaggi, perché la gente, che voi siate belli e brutti, brutti e buoni, bravi e cattivi, comunque in qualche modo chi vi seguirà si affezionerà a voi e poi c'è sempre più interesse a vedere una persona, perché la curiosità è importante. Quindi lavorare sui contenuti buoni e mantenere una personalità seria, una mentalità stabile, bisogna essere mentalmente stabili per fare questa cosa in età adulta e non essere banali, quindi trasmettere tanti valori nel proprio linguaggio, nel comunicare, lasciare sempre un qualcosa che ti rimanga dentro, e magari in 10-15 minuti di video ci devono essere quelle 3-4 frasi che voi imprimete nella testa dello spettatore. Poi in realtà fate un video per imprimerle tutte, ma ognuno si prende quello che gli serve, quindi non per forza tutto. Quindi fate video, secondo me, a 40 anni un po' in modalità papà. Cioè, è vero che stiamo giocando, è vero che stiamo giocando, ma fatelo in modo un po' costruttivo, insomma, oppure continuate a giocare, ma suscitate quella voglia negli altri di fare la stessa cosa, che sia giocare o che sia fare i video. Ci sono tante difficoltà per fare queste cose, il tempo, lo spazio, l'imbarazzo, perché comunque stare davanti a una telecamera è difficile già anche da soli, ma è anche difficile per chi vive con noi, perché c'è una cosa molto importante da dire, una dura realtà. Si è giustificato in questa cosa solo se si hanno i numeri. È vero, specialmente se si invecchia e si diventa un quarantenne. Tu non puoi dire a un amico o a un familiare eh, io faccio i video su YouTube. La prima cosa che ti chiede è ah, quante visualizzazioni fai? Perché non gliene frega un cazzo di quello che tu fai, di quello che tu dici. Sei giustificato e valutato solo sei dei bei numeri. Valutato in bene, si intende. Quindi il periodo iniziale è sicuramente difficile. Bisogna arrivare, poi quando si hanno i numeri è tutto più concedibile, ma questo rientra un po' anche nella valutazione che si può avere quando guardi gli altri canali. Se tu entri in un canale di 10.000 iscritti e apri un video, ti metti già nella testa che quel video potrà essere bello, ma magari non è più bello del tuo che hai 1.000 iscritti. Però è così, perché comunque c'è sempre un motivo perché tu sei arrivato quei 10.000 iscritti. Importante essere concreti. Quindi contenuti di qualità, il tempo è sicuramente poco, giocare la sera non è un problema perché anzi la maggior parte della gente gioca la sera, registrare le proprie clip non è un problema, il problema potrebbe essere appunto parlare, commentarci sopra, il tono di voce, non farsi sentire dai vicini, appunto avere vergogna di farsi sentire per quello che si dice che per alcuni pezzi potrebbe essere anche un po' infantile, ma perché ci sta, perché magari fai il video comico ma un po' te ne vergogni, magari te ne vergogni quando lo registri ma poi quando fai un montaggio no perché hai tirato fuori il buono e quindi sei anche contento di rivederti o di farti farti guardare dagli altri. All'inizio pensate che io registravo e sto parlando dei primi video di Forza Motorsport tutto, oddio, 50-70 video quando non abitavo qui non avevo uno spazio per fare queste cose oppure ce l'avevo ma non ero mai solo e adesso, no, adesso è tutto diverso non c'è problema e quindi cosa facevo? Facevo i montaggi prima erano quasi sempre gare commentate e andavo a registrarle solo voce in macchina. Tra l'altro la macchina è uno studio di registrazione perfetto perché è tutto vattato si sente tutto bene e avendo un portatile non c'era nessun problema nel farlo. Poi vabbè magari mi facevo di getto e non riprendevo bene certi concetti mi andava bene un po' qualsiasi cosa dicessi però è una soluzione pensateci se volete iniziare questa è una soluzione anche se non avete un garage la macchina insomma ce l'avete ovunque parcheggiata. Vi dico sta cosa ogni tanto ho registrato video anche nei parcheggi e supermercati vi dico solo questo andavo a fare la spesa e mi prendevo quei 10 minuti in più per me a montaggio ovviamente già finito però le cose andavano avanti e un po' non dico che rimpiango quei tempi però li guardo sempre con ammirazione perché sono passato di lì è la gavetta che bisogna affrontare per quanto riguarda il gioco bisogna scegliere cose buone il sim racing è un tema buonissimo per lo youtuber a 40 anni perché è già un qualcosa che riguarda già persone di questo tipo e fare video su questo tema a quest'età secondo me attrae se fatto nella maniera giusta attrae persone coetanee quindi fascia 25 55 anni una fascia abbastanza ampia che mi dà anche consolazione perché vuol dire che potrò farlo ancora per un bel po' per lo meno giocare poi i video è un altro discorso però è bello che nessuno ti giudichi perché dice semplicemente stai giocando tu sei un giocatore vai a lavorare no ok sì vado a lavorare cioè lavoro anche però questi sono per quanto possono essere hobby per alcuni un lavoro per altri hobby oppure potenziali lavori che potrebbero essere in futuro qualsiasi cosa siano ti richiedono lo stesso impegno di un lavoro vero poi state è quanto dedicarcene il tempo è importantissimo è difficilissimo stare trovare l'equilibrio non far mancare tempo a nessuno per chi ha famiglia come me è incredibilmente difficile farlo accontentando tutti e non ci riesco non posso accontentare tutti quindi l'equilibrio è importante non so trarre tempo io ho due figli ragazzi cioè due figli li metti a letto si fa una certa arrivi qua che è già tardi quindi anche le forze sono poche e la luce del sole vabbè che qui non c'è finestra quindi non cambierebbe mai niente però l'umore è diverso la sera e poi mi spiace a volte avere fretta avere fretta di lasciare le persone per venire qua ma devo farlo perché è un lavoro enorme perché il tempo è infinito io non sono uno che punta a fare i video veloci magari questo lo è sicuramente non mi avrà chiesto più di due o tre ore ma secondo me due ore di montaggio neanche ma una o due ore insomma i tagli sono minimi però i video montati spesso mi arrivano anche a dieci ore quindi il tempo ce ne va e non potrà mai essere più di un video due settimane fatti bene è impossibile non ci sto dentro quei ritmi poi ci sono le live e quindi trovare il tempo per tutto è difficile ed è importante trovare l'equilibrio ragazzi se no poi va tutto male e anche se lo fai e ci riesci non sei contento perché ti viene a mancare il resto quindi a 40 anni se fai gaming se fai video sui giochi è fattibile però ricordatevi sempre che voi dovete essere all'altezza anche senza davanti un videogioco non dovete avere per forza lo scudo di un videogioco davanti a voi che vi protegga dal creare un contenuto di merda perché c'è il gioco che vi tiene manforte no dovete essere forti a prescindere quindi la vostra la vostra personalità ci deve essere e va mostrata per buona parte di ogni video tra l'altro ogni video ragazzi ha potenzialità enormi puntate se riuscite a contenuti esplosivi cioè date una possibilità ad ogni video su youtube ci sono due concetti importanti da seguire bisogna fare i conti con youtube quindi l'algoritmo e le sue regole e bisogna fare i conti con il pubblico i vostri spettatori uno lo conquisti con le varie tecniche parlo di tecniche SEO quindi termini di ricerca nei video copertina copertina titolo e il contenuto di qualità e l'engagement ovviamente dell'utente come mi piace non mi piace il watch time di quanto tempo riuscite a farlo a farlo starli a guardare il vostro video e poi c'è la parte dello spettatore quindi chi vi guarda perché vi guarda quando vi guarda ogni quanto vi guarda fate i conti con tutte queste cose avete sicuramente dei buoni numeri io ci sto ancora lavorando e cerco di stare attento un po' a entrambe le cose secondo me però prima regola ragazzi la qualità questo lo dicono tutti sia per youtube che per il pubblico entrare in un canale e trovare qualità darà un sacco di possibilità che quella persona rimanga con voi per tanto tempo se non cambiate comunicare bene è importante ragazzi 40 anni non ce li avete per niente avete esperienza usate questa esperienza sia per portare del sapere sul gioco che avete davanti sia per giocarlo al meglio e parallelamente rifilarci anche magari qualche perla di saggezza insomma cercate di allargare i vostri orizzonti perché sappiate che prima o poi potrebbe succedere che voi rimanete su youtube ma che non ci sia più il gaming oppure che passate quasi totalmente dalla parte del vlog sempre magari parlando di giochi parlando di gaming parlando del settore del settore videoludico ma non giocando mai ci stanno tutte queste cose perché no quindi siate pronti è una strada che si fa si può si può migliorare strada facendo io lo se qualcuno mi dovesse chiedere ha senso iniziare a questa età si se tu sei hai una forte motivazione hai una passione e ricordatevi che le passioni non hanno età questo è importantissimo se tu hai questi elementi hai le basi per iniziare a fare dei buoni contenuti e il resto verrà da sé poi ci sono tante regole che non saprai all'inizio imparerai a affrontarle imparerai a stare davanti alla telecamera e imparerai anche tecniche di di produzione dei video perché uno può anche aver voglia di fare i video ma non saperli fare ogni video ti insegna a fare quello successivo e finché vedi che il tuo video che deve uscire è migliore di quello precedente vuol dire che stai lavorando bene e al di là dei numeri continua perché stai migliorando è comunque una cosa importante saper fare video nel 2022 penso che sia estremamente importante e possa aprirti possibilità anche per altri tipi di lavori sappiatelo però qui stiamo parlando di youtube e in particolare di youtube nel gaming facciamo un esempio pratico voi siete appassionati di sim racing come me potreste anche essere semplicemente giocatori da pad quindi facciamo l'esempio come potrebbe essere stato il mio inizio forza motorsport 7 facciamo finta che ci sia già l'otto che si possa giocare con pad come iniziare registrate una gara registrate un intro magari dalla macchina che usate fate il montaggio tagliando via tutto lo scarto e questo è molto importante e poi ci commentate sopra a cose finite con i programmi vari di editing voi potrete mandare in riproduzione il video nel frattempo il video registrerà la vostra voce su una traccia separata questo è un buonissimo inizio per prima di tutto non metterci la faccia se vi crea imbalazzo e poi vi dà possibilità anche di stoppare riprendere da dove da dove eravate rimasti e continuare con la narrativa quindi col commento è una tecnica che ho usato io tanti anni fa e che mi ha portato buona parte del mio pubblico e mi ha insegnato anche ad applicare il mio stile non voglio dilungarmi troppo ma già l'ho fatto riepilogando sì è una cosa fattibile youtube 40 anni youtuber nel gaming a 40 anni non stona così tanto come si potrebbe immaginare fatelo in maniera concreta non siate infantili e trasmettete tanto la vostra persona comunicate comportatevi già con la mentalità di un padre perché sappiate che anche un trentenne che è comunque una persona adulta vi guarderà indubbiamente con ammirazione anche se non non sia se non fosse totalmente interessato a diventare come voi però vi seguirà e alla fine è questo che si puntano a farsi seguire a divulgare il proprio verbo non so se vi ho detto una maria di cazzate però fatemelo sapere è un diciamo un video a opinione aperta siate sentitevi liberi di esprimere il vostro giudizio che siate spettatori che siate giocatori che siate youtuber quello che volete mi piace ogni tanto raccontarvi la mia e poi per il resto vabbè ci vediamo in pista con i soliti giochi con le solite live e la prossima sarà su formula 1 non lo so devo vedere cosa ho deciso dai ci vediamo in pista buon weekend a tutti e fatemi sapere la vostra in maniera costruttiva dai così mi piace saluti da MAPO a presto ciao